Vorrei dire che è volato questo episodio, ma mentirei spudoratamente. È stato... È stato un episodio! Veramente, se dovessi riassumere questo episodio in una parola puttanate, una marea di puttanate per prendere tempo e riempire... Non lo so, cioè, ok, questa era la preparazione per lo scontro con lo spirito tartaruga, ma, come dire, si è una sorpresa molto comoda. Più della metà delle scene erano veramente superflue, inutili, e... Cioè, i dialoghi sembravano, non lo so, senza senso in alcune parti. Si rispetta un'ottima season, assolutamente, assolutamente. Allora, intanto, io mi soffermerei su questo personaggio. Host, come si chiama? Host. Allora, prima di tutto, lei si presenta a loro, vogliate uccidermi, e scompare. E tu dici, particolare, cioè, potrebbe risultare un personaggio interessante. Ricompare poco dopo e spiega che lei ha un famiglio dello spirito tartaruga e vuole che uccidono lo spirito tartaruga. E già qui mi verrebbe da dire, ma come mai? Cioè, lei è stata creata dallo spirito, quindi perché vuole che suo padre o quello che l'ha creata venga ucciso? Successivamente ci dice che, in realtà, lo spirito non sta agendo per sua volontà, ma sta venendo controllato. E quindi ci dice di fermare il tizio che lo sta controllando. Se non fosse, che poco dopo, ridice, proprio, non riprendo i frame perché è difficile beccarli, ma... La prima volta dice, uccidete lo spirito tartaruga. La seconda volta dice, uccidete il tizio che lo sta controllando. La terza volta dice, per favore, uccidete lo spirito tartaruga. Ma, cioè, perché? Ma che dialoghi sono? Ma come fai? Non capisco, ma mi sono perso qualcosa o questa tizia non ci sta con la testa? Cioè, come hanno fatto a scrivere delle cose del genere? Se tu pensi che questo episodio sia pesante, pensa che lo slime parte 2 ne ha quattro filati, tutti peggio di questo. Ma per carità, cioè, è un episodio di preparazione, così come il primo. Alla fine, il primo è un episodio introduttivo perché ti devi riapprocciare alla seconda stagione. Questo è l'episodio di preparazione, ma questo personaggio è una merda. Proprio una merda. Le cose che dice non le capisco. Fa discorsi senza senso, scade anche nel cringe in certi momenti. Tipo, nel finale, quando... Cosa dice? Vabbè, qua dice, ho interpretato il ruolo della donna, è ok. Ma poi andando avanti... Dubito tu sia venuta qui solo per chiederci di sconfiggere il tuo padrone. Cioè, bisognerebbe ovviamente rianalizzare quello che si sono detti. Vi posso assicurare che non ha un cazzo di senso per alcune cose. Si contraddice da sola. Ecco, poi dice... Naofumi gli fa, ma sei venuta qui solo per dirci di uccidere il tuo padrone? E poi, ovviamente, vi fornirò il mio aiuto per trovare la mente dietro a questa faccenda. Ma che... che conversazione è? Prima dici, uccidete lo spirito tartaruga e poi... Vi aiuterò a trovare la mente dietro a questa faccenda, ma... Cioè... E poi nel finale gli consiglia di staccargli la testa, lo spirito... Cioè, in realtà, quattro volte si contraddice. La prima volta uccidete lo spirito. La seconda volta fermate la mente che sta dietro. La terza volta staccate la testa dello spirito... Cioè, gli consiglia pure di staccare la testa. Cioè, ma veramente sembra una conversazione tipo... Esoterica, una cosa... Cioè, lei dice... Uccidete... Tagliategli la testa. E Naofumi gli fa... Sì, grazie al cazzo, se gli tagli la testa è normale che un mostro muoia. E poi questo tizio risponde... Ora sappiamo come abbatterlo. Non lo so... Cioè, forse andrebbe rivista questa conversazione, perché magari sto fraintendendo io qualcosa, ma mi sembra veramente meh, un meme. Un meme, questa conversazione. Veramente una conversazione memosa. Esortiamo con due minuti totalmente sprecati, in cui Raftalia dice una marea di puttanate a cosa... A Naofumi gli dice... Eh, ma guarda che in realtà i nobili, quei tizi, in realtà sono delle brave persone, i generali, non dobbiamo andargli contro. Veramente un episodio filler, per certi versi. Veramente non so perché l'hanno gestito in questo modo, ma mi è sembrata proprio una cozzaglia di roba, a tratti senza senso, a tratti superflua. Non l'ho proprio capito. Sbaglio, alla fine del primo episodio la tizia ha chiesto a Naofumi di ucciderla. Ma anche quello, e l'ho detto infatti prima. Cioè, perché ha chiesto a Naofumi di ucciderla, quando poi non ha più nominato questa cosa? Cioè, in questo app dice che deve uccidere la tartaruga o la mente che la manovra? Eh, lo so, regà, lo so, è stato veramente particolare, particolare. Poi in realtà, se vogliamo aggiungere una cosa in merito all'episodio, io ho dei grossi dubbi e delle grosse perplessità su questo tizio. Su questo tizio qua. Sul cattivo, che è palesemente il cattivo che comanda lo spirito tartaruga, e che si vedrà in questa stagione. È il villain principale della stagione, che si vede nell'opening, infatti vorrei riprendere l'opening, dove in realtà si vedono molti personaggi, eh. Non mi aspettavo così tanti personaggi, sarò sincero. Beh, i tre eroi veramente dello schifo, che vengono... Guarda, guarda, guarda qua. Cioè, ma come fanno... Ma anche questo... Cioè, vogliamo parlare dei tre eroi, in shieldiro, in generale. Ma come fanno a essere così? Cioè, cazzo, da quando li abbiamo visti all'inizio della stagione, risultavano stronzi e vabbè, però quanto meno erano forti. Poi, da quando Naofumi è diventato decente, e adesso anche OP, ma quanto sono scarsi questi? Cioè, letteralmente fanno più male che bene. Qualunque cosa fanno... Non lo so, risulta in veramente un problema in più. Allora, appunto, di sto cattivo qua, diciamo che sono un po' preoccupato, perché... Cioè, cattivi che mi durano così poco, perché penso proprio che questo cattivo lo introdurranno in questa stagione e morirà in questa stagione, di solito, di solito, eh. Sono cattivi veramente squallidi, quindi... Cioè, non lo so. Questo secondo episodio mi ha veramente fatto un pochino paura. Mi sono un po' impaurito dopo questo secondo episodio, perché tra il nuovo cattivo che... Non lo so. Ha sensazione, non mi dà proprio buone vibe. E dopo la gestione delle scene di questo episodio qua, sono un pochino perplesso. Da quando Naofumi è diventato un bel personaggio... un personaggio migliore... Tutti gli altri sono morti. Sono morti. Delle merde. Naofumi è diventato forte. Basta. Fanno tutti schifo. Tutti proprio nel dimenticatoio. Quindi... Sì, avrei preferito anche io che forse... Non dico tutti e quattro gli eroi, però un eroe su quattro, un eroe su tre, sul loro tre, poteva pure essere decente. Invece no, sono tutti e tre delle merde. Uno peggio dell'altro. Pagolo...